Eccoci qua ragazzi, prima uscita dell'anno, tutti sono andati in bici l'1, oggi è il 2, però vabbè. Andrò su sempre alla piella perché il tempo non è, come potete vedere, dei migliori. Ora siamo sull'ultima salita che porta alle piste. Oddio, no, oddio, oddio, col terreno magnato che c'è oggi, una pantana, non c'è una salita, eccola qui. Allora, scendo, ho deciso di provare a fare subito. No, prima quella corta, poi quella lunga, prima la solita corta qui. Oggi si scivano abbastanza il freno che tiene compagnia. Insomma, un po' scivolosetto lo è oggi, ma senti casino sti freni, ma che cavolo c'hanno? E ragazzi, i fischi del freno oggi terranno un po' compagnia, e non so più come risolverla. Però almeno il freno va, dai. Qui bagnato così oggi è il suo, oddio. Oddio, 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 non si tiene nulla. Si scivola da matti così. E la prima è andata. Ma non so se andarmi a fare la PS3, che era bella, era divertente, o andare in cima alla quella un pochino più lunga. Vado su e poi vedo quello che mi viene in mente, quello che ho voglia di fare, dai, riaccendo in cima. Allora, ho deciso di fare il contrario di quello che si fa di solito, perché almeno... Vabbè, parte a lungo un po' il giro, faccio un po' più di salida, anche un po'. A parte quello, ho deciso che ora faccio questo e poi dopo la PS3, proviamo di tornare a casa. Come ultima pista farò la PS3 oggi. No, scherzavo, la PS3 è un'altra, la PS2 volevo dire. Oh. Allora. vero è il taglione ripido a fare quello però non mi rinvengo dove dirà questo fango e queste foglie non deve essere meglio insomma ci si può provare insomma questo che non è facile oggi tutta fangosa così con il bagnato come slitta faccio anche questa la faccio completa oggi oddio jolly ps3 ancora è continuo una stanchezza mi sa che ho preso quell'altra non è quello che lo prenderò è quella giusta è quella giusta è qui qui dove giocare il jolly qualche mese fa e anche questo è fatto adesso mi aspetta una salita un po più lunga del solito prima di arrivare a fare l'ultima pista che voglio fare allora ora c'è andare qui subito a destra mi sembra ah mi è rimasta la maschera leggermente appannata poi qui ok potrò fa meglio eh la parabolica però mi staggia all'ultimo un po' qua fa che cosa che cosa Sì Allora, siccome di fare la strada normale per tornare a casa non le voglia Io non so com'è messa questa È un po' che non la rifaccio Non è per scherzare ma è veramente un anno che non la rifaccio questa Cioè, se conti solo in mesi è metà anno Forse, insomma, è quasi un anno che non la rifaccio Quindi non so com'è messa Però proviamo Per ora sembrerebbe buona a parte le pancchiglie ovunque Ma inevitabile oggi Ora poi vediamo un po' come sarà messa Questa è Va bene, dai Non so sembrerebbe abbastanza fattibile Quella ho calcolata male, non me la ricordavo Eh sì Ho calcolata malissimo Questa me la ricordo Su alto e giù A rischiare Bene, ero scordando che lì sotto c'era la buca con l'acqua così scivolosa Però Ragazzi Questo è stato comunque un errore mio plateale proprio Perché si sa che oggi si scivola sulle rocce Ho proprio sbagliato tutto Vabbé dai qui diceva ricorda che non lo so ricordo che spunta questa adesso mi sembrava fosse a destra o sinistra proviamo a sinistra vediamo dove va io non me la ricordo ragazzi del passo però questa sembrerebbe pulita i cartelli ci sono quindi da qualche parte si spunta io vorrei dire ma mi sa che ho sbagliato sentiero però ormai questo è no ok ora mi vengo potrebbe essere quello giusto invece non è dove volevo rispettarsi ma potrebbe essere quello giusto lo stesso io non mi vengo se questo non è questa in più mi sa che mi si è storta anche la sella si si è storta la sella maledetta proprio qui tu devi storgere ma è impossibile guidare con questa sella che si è storta tutta si è proprio lentata ce l'ho ristringuta sella è risistemata direi che si può provare a ripartire oddio eh ragazzi ho avuto un problema un po' d'attico tecnico non è che ci posso fare tanto ma veramente andavo in salita e avevo la sella talmente storta che mi stava bloccando la gamba stavo pedalando con la sella di traverso praticamente dunque ragazzi il mio giro oggi finisce qui e primo giro dell'anno finito tanto le torno a casa e vi saluto e alla prossima grazie